Ci siamo lasciati con il 2021 considerato come l'anno orribile per i morti sul lavoro e poi arriviamo all'anno nuovo, il mese nuovo e i morti non diminuiscono assolutamente, di lavoro si continua a morire. Certo, nobile tasso, ancora a gennaio registriamo morti, ma soprattutto adesso siamo a commentare i dati dell'INAIL nazionale che ci racconta le vicende delle condizioni del lavoro. Ribadiamo che siamo di fronte a una strage senza fine. Secondo i dati dell'INAIL, al netto dei morti sul lavoro per Covid-19, i quali saranno disponibili solo verso aprile, dice l'INAIL, noi abbiamo 1.221 morti sul lavoro, il che significa, tradotto, che sono 3,34 morti sul lavoro al giorno e questo è un dato impressionante che già conoscevamo, ma che questo conferma la situazione tragica del lavoro e dei suoi diritti. Ma oltre a questo noi abbiamo anche 555.000 e oltre infortuni sul lavoro, 555.000 e c'è da registrare che i morti sul lavoro nell'Italia centrale sono aumentati nel 2021 rispetto al 2020. E in particolare aumentano i morti sul lavoro quelli che sono attorno all'età pensionabile. Questo sta a significare che non mandare in pensione lavoratori anziani li espone ancora di più ai rischi di infortunio gravi e addirittura di tragedie sui luoghi del lavoro. Siamo di fronte a un dato che ancora ci dice che nel nostro Paese la logica del profitto è più forte della necessità della salvaguardia della persona, del lavoratore e anche della vita. Il governo ha promesso un massiccio potenziamento degli organi di controllo degli spettorati, staremo a vedere se questo è possibile. Intanto siamo qui a denunciare quello che resta per la civiltà un dato insopportabile, che in Italia perdono la vita ogni giorno più di tre lavoratori e io credo che questo sia un dato insopportabile per un Paese che vuole dichiararsi civile.